Un grande spettacolo della natura, costituito dal cratere, bocca centrale, il visito è tutto intorno alle macchie gialle di zolfo, si scende fino in basso. Quello che colpisce è che la parte interna e la parte esterna di questo vulcano è particolarmente terrazzata con un lavoro dell'uomo grande e incente, molto molto simile alla costa amalfitana per questo lavoro, ma poi la popolazione è andata via.